Ciao, sono Klaus, sono uno degli studenti italiani qui a Kosciz e vengo dall'Alto Adige di Bolzano. Perché consiglierei uno studente italiano di venire qua? Per me ci sono diversi motivi di venire qua. Uno sicuramente è che i metodi di insegnamento sono molto molto buoni. Per esempio ci sono tantissime lezioni pratiche e solo poche lezioni di teoria. Tra l'altro anche l'università è molto internazionale, ci sono studenti da tutte le parti d'Europa ma come anche dall'America o dalla Canada o da Cuba. Per questo si ha tantissimo contatto con studenti di altri paesi e si parla anche solamente l'inglese, per questo si impara anche molto bene l'inglese e poi dopo sicuramente questo può essere un grande aiuto.